Ciao da Avsim, ormai siamo al 100% di partecipazione di difensori alle conferenze stampa pre-Champions League e anche post con Massimiliano Allegri. Oggi De Ligt alla vigilia di Chelsea-Juventus, partita valida solo per il primo posto nel girone e non anche per la qualificazione perché su quello noi abbiamo già dato, partita quindi molto importante ma anche sotto altri punti di vista per quanto mi riguarda almeno e cioè per l'impiego di altri giocatori anche se la rosa disposizione dei convocati è molto ridotta all'osso con i tanti indisponibili ma appunto se era detto dobbiamo conquistare la qualificazione il prima possibile così da avere poi 180 minuti più leggeri dobbiamo sfruttare questi 180 minuti più leggeri in maniera leggera appunto e quindi per come la vedo io dando spazio a chi gioca meno e invece Allegri ha detto o gioca Ken o gioca Morata sempre con anche il suo piglio diciamo ironico, simpatico anche in una situazione di serietà oppure addirittura giocano un tempo l'uno e un tempo l'altro. No, e non ci siamo, deve giocare Ken, punto e basta, se sta bene domani deve giocare Ken e non perché lo decido io, non perché ho fatto un video oggi in cui appunto ho parlato del rendimento fin qui deludente di Morata e delle opportunità da concedere a Ken ma perché altrimenti quando gioca, se non gioca in Champions titolare, ha fatto solo tre partite da titolare in questa stagione Ken al netto dell'infortunio che ha avuto che l'ha tenuto fuori cinque gare di recente ma se non gioca titolare in Champions in una partita tra l'altro importante dove lui tra l'altro ha già giocato, non so adesso quanto abbia giocato contro il Chelsea però ha giocato in Premier League, quindi in un contesto che tutto sommato gli potrebbe anche essere familiare in una partita importante che può essere importante ancora di più per lui per dargli fiducia ma quando gioca, già Caio Giorgi è fuori lista e quindi si allena anche prima della Champions come pure per le Grini ma poi non parte se neppure Ken viene preso in considerazione ecco allora Morata sarà anche la partita dell'ex ma l'ha già fatta la partita dell'ex all'andata quindi non è che adesso la deve fare di nuovo né dobbiamo stare qui a considerare queste cose quindi io metterei Ken a prescindere ma a prescindere così come tutte le riserve possibili se riserve sono se riserve sono Allegri ha detto che tra l'altro non c'è questa penuria di giocatori ma lo sapete che Allegri è sempre uno che guarda in positivo un po' tutte le cose quindi non ci aspettavamo certo che si autoflagellasse quindi ha detto abbiamo quattro difensori centrali includendo nel conteggio anche De Winter che si è allenato con la squadra stamattina appunto e quindi partirà e sarà aggregato è un difensore centrale molto bravo, molto forte che sta giocando con l'Under 23 di cui vi ho parlato già da molto tempo perché già nell'Under 19 aveva bruciato le tappe e aveva dimostrato di essere molto valido ma probabilità che De Winter veda il campo forse meno di zero forse semplicemente zero non si sa poi dice a centrocampo li abbiamo quasi tutti a disposizione tranne Bernardeschi vi suona strano che non sia stato nominato Ramsey Ramsey infortunato ma non si sa bene che cos'ha non convocato ma non viene nominato addirittura sono tutti a disposizione tranne Bernardeschi come se lui non esistesse di questo poi parleremo in un'altra occasione mentre in attacco ci sono praticamente tutti perché ritrovato Di Bala convocato anche se probabilmente non partirà titolare perché non si sa quanto possa stare bene in carenza di allenamenti negli ultimi giorni oggi comunque si è allenato con la squadra ma anche Kuluseschi che sembrava fosse infortunato perché stamattina ha fatto differenziato ma ha detto Allegri semplicemente si è tolto un dente quindi via il dente via il dolore via anche il dolore del giovane Kuluseschi che fa un po' bene e un po' male speriamo che possa rilanciarsi con continuità giocando con continuità ecco appunto domani Artur titolare Kuluseschi titolare Rugani titolare ritrovato Alexandro poi per quanto riguarda i terzini non abbiamo alternative Quadrado e Alexandro devono giocare per forza questa partita quindi bene Allegri ha fatto a mettere Pellegrini contro la Lazio proprio perché poi in Champions non c'era Ken titolare Bentancur di nuovo titolare facciamo giocare quelli che stanno giocando meno altrimenti a che serve avere questi 180 minuti tra virgolette inutili poi a livello di contenuti questa conferenza stampa non ho offerto tantissimo ma vorrei passare prima per Delict perché Delict di cose interessanti secondo me ne ha dette anche bene ormai che Delict sappia parlare l'italiano articolandolo ma anche a livello concettuale è una cosa risaputa e lo stiamo apprezzando sempre di più perché migliora migliora a vista d'occhio perché i giovani migliorano a vista d'occhio non è che devono arrivare per forza a 27 anni per raggiungere certe vette quindi ha detto con il Chelsea ma in generale in Champions League ci sono partite diverse rispetto a quelle con le medio-piccole perché con le medio-piccole contro le squadre piccole o medio-piccole non abbiamo abbastanza spazio abbiamo meno spazio per fare le ripartenze e quindi serve un altro modo per fare gol e su questo dobbiamo migliorare mentre contro il Chelsea possiamo giocare di ripartenza perché abbiamo più spazio per questo tipo di manovra ecco lucidissimo Delict che capisce che ci sono partite che si possono fare in un modo ma partite che si devono fare in un altro e quindi non può essere una Juve che contro chiunque gioca di ripartenza deve essere una Juve che può giocare di ripartenza quando è possibile ammesso che col Chelsea sia possibile perché per esempio senza Lukaku secondo me anche col Chelsea è meno possibile fare la partita di ripartenza e poi ci sono partite in cui devi trovare un altro modo per fare gol trovare un altro modo altri modi per fare gol e su questo dobbiamo migliorare Delict lucidissimo sogno ovviamente di vincere la Champions League con la Juve questo è un sogno di tutti dopo il ritiro abbiamo vinto due partite abbiamo trovato uno spirito diverso e abbiamo capito che cosa significa essere alla Juve cioè stare duri nel campo morire sul campo e soffrire povero Mateis amici miei ragazzi qui abbiamo perso anche lui perché se veramente pensa a queste cose è perduto anche Delict chi lo dice lo dico io che ho la verità in tasca no non ho la verità in tasca e non è che lo dico io e quindi è vero ma semplicemente vi sembra possibile che è un difensore classe 99 tra i migliori al mondo precoce titolare in nazionale da quando aveva 17 anni adesso non più adesso non più capitano dell'Ajax con partecipazioni in Europa sotto i 20 anni semifinalista di Champions e tutto quanto il resto debba arrivare alla Juve per dire che in campo si deve morire e soffrire morire e soffrire vabbè e così cresciamo i giovani bisogna morire e soffrire lui è molto intelligente quindi secondo me saprà distinguere saprà capire anche le situazioni dove si deve fare altro però che anche Delict venga contaminato con questo DNA Juve fantomatico che non porta da nessuna parte che forse porta da qualche parte in Italia ma non porta da nessuna parte in Europa è abbastanza triste è abbastanza avvilente un po' di preoccupazione la può destare questa cosa quindi speriamo che sia solo una chiacchiera diciamo anche un concetto tutto sommato valido buttato lì in una conferenza stampa ma che Delict non vada poi sul campo veramente a desiderare di soffrire o a godere del difendere perché è un difensore e gli piacerà difendere ma è un difensore propositivo è un difensore in campo aperto è un difensore proattivo che va in avanti che spezza la manovra avversaria sul nascere che va a fare pressing e intercetti sulla tre quarti offensiva una volta una volta adesso con uno stile decisamente diverso non sto assolutamente pensando al rinnovo sto pensando a migliorarmi partita dopo partita Lukaku fa la differenza col Chelsea perché con lui è una cosa senza di lui è un'altra la partita d'andata è stata una bella partita ma non è stata tra le mie migliori questa domanda secondo me era finalizzata a cercare di celebrare la vittoria dell'andata perché la vittoria dell'andata è un manifesto programmatico l'1-0 contro il Chelsea all'Allianz Stadium è un manifesto programmatico della serie la Juve anche in Europa persino contro i campioni d'Europa può fare difese contro piede tanto si vince e si vince 1-0 di cortomuso come comanda la casa mi dispiace molto per chi sperava che De Ligt incoronasse anche lui quella partita ma De Ligt ha detto non è stata la mia migliore poi probabilmente De Ligt ha inteso a livello di prestazione e quindi ha detto come mia prestazione personale non credo sia stata tra le migliori della mia carriera anche in senso di migliorarsi sempre ma non ha detto neppure è una partita che ricorderò per sempre è una partita che entra nelle migliori della mia esperienza della mia carriera e della mia vita mi dispiace mi dispiace mi dispiace molto che questo manifesto programmatico si sia già un pochino strappato però sono cose su cui si sorvolerà perché magari questa stessa domanda sarà posta a Chiellini che risponderà in maniera diversa Allegri con Lukaku bisogna difendere in un modo senza Lukaku bisogna difendere in un altro questa era difficile serviva Allegri in conferenza stampa per dire questa cosa ovviamente così come serviva Allegri in conferenza stampa per dire o gioca Ken o gioca Morata sono cose importanti cioè non è che puoi prendere uno per la strada devi pagare un allenatore 9 milioni all'anno per portartelo in conferenza stampa a dire questo con Lukaku si difende in un modo senza Lukaku si difende in un altro cristallino pulitissimo Allegri spiega il calcio ragazzi spiega il calcio spiega la vita e quindi con Lukaku nello specifico possiamo fare meno contropiede perché o meglio con Lukaku abbiamo più punti di riferimento forse ho preso appunti male perché in realtà si è un po' interrotto mentre spiegava ma comunque voleva dire che chiaramente Lukaku dà più punti di riferimento fa anche un po' la boa e quindi chiaramente ci sarà un modo di difendere diverso che conosciamo io ritengo che se il Chelsea giocherà senza Lukaku ci metterà maggiormente in difficoltà e potrebbe crearsi più facilmente quella situazione descritta da De Ligt in cui devi trovare un altro modo per fare gol perché non puoi andare solo di contropiede bisognerà fare una partita lucida tecnicamente cose già sentite Alexandro è titolare ma ripeto su questo non c'erano non c'erano dubbi a centrocampo può darsi che ne tolgo uno o che ne metto un altro ha detto una frase simile cioè qui insomma non so se stiamo scrivendo dei testi da cabaret però va bene così quindi centrocampo a due o centrocampo a tre anche qui o gioca Ken o gioca Morata con Lukaku si difende in un modo senza Lukaku in un altro o giochiamo con due centrocampisti o giochiamo con tre ma tra l'altro a parte la banalità se tu non dai delle risposte alla conferenza stampa che la fai a fare ma ripeto sono sempre e dico sempre le stesse cose perché perché i giornalisti si pongono sempre alla stessa maniera non è stata fatta mezza domanda di tattica cioè una partita di questo livello tu giochi contro Tuchel va a giocare contro Tuchel magari una domanda sulla partita d'andata quanto è replicabile la partita d'andata nessuno gliel'ha fatta questa domanda al di là delle assenze quanto potete ripetere la grande prestazione dell'andata in cui si è vinto e quindi in maniera efficace nessuno gliel'ha fatto e sarebbe stata una bella domanda da fare nessuno gliel'ha fatta che cosa si deve fare a livello di sviluppi tattici per replicare la partita d'andata niente lasciamo stare facciamo domande su cose che non hanno nessun senso il modulo dipende dalle caratteristiche perché gli è stato chiesto il 4-3-3 come sapete quando fate una domanda sui moduli ad Allegri è un po' come insomma veramente lo mettete in difficoltà e lo infastidite quindi lui ha detto dipende semplicemente dalle caratteristiche in particolare dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio perché sbagliamo spesso l'ultimo passaggio contro la Lazio abbiamo sbagliato dei contropiedi venendo meno proprio all'ultimo passaggio e abbiamo subito poi dei contropiedi non riuscendo a finalizzare perché bisogna sempre pensare a difendere anche quando si attacca e però dice dobbiamo fare più gol di squadra in generale in questo momento in campionato la classifica è lo specchio della nostra differenza reti solo più tre e quindi dobbiamo fare più gol su questo finalmente ha detto una cosa con cui sono d'accordo perché non ha detto dobbiamo subirne meno cioè oggettivamente 18 gol sono troppo pochi segnati quindi dobbiamo trovare più gol di squadra contro le piccole serve più serenità senza troppa fretta e ci mancherebbe altro mica possiamo giocare di prima mica possiamo fare le triangolazioni mica possiamo velocizzare il gioco no con calma con calma arriviamo McKennie è cresciuto molto più che altro di testa Ronaldo è sempre stato un giocatore accentratore e quindi senza di lui dobbiamo trovare più gol di squadra in particolare fino a questo momento abbiamo fatto meno gol di quelli che la squadra ha potenzialmente nelle gambe nelle sue possibilità questi sono i contenuti sostanzialmente di una scarna conferenza stampa di De Ligt con Allegri molto più interessante la parte di De Ligt pre-Celsea Juventus quello che succederà poi a livello di scelte di formazione lo vediamo anche meglio domani nel mio classico video pre-partita al mattino pre-Celsea Juventus e quindi per ora mi fermo qui grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti in commento alla conferenza stampa di De Ligt con Allegri pre-Celsea Juventus che cosa vi resta di questa conferenza stampa che cosa pensate che cosa percepite che cosa vi infastidisce che cosa vi trova d'accordo like a questo video se vi è piaciuto condividetelo e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e appuntamenti tra cui tutti quelli dedicati al Chelsea Juventus compresa la live reaction con chat vocale riservata ai dirigenti AFSIM FC quindi fate un giro qui sotto per scoprire gli abbonamenti ci vediamo molto presto e sempre forza Juve